Pagare anche il caffè o il giornale con il Bancomat, una proposta di cui si parla da anni che ora potrebbe diventare realtà. In arrivo infatti un emendamento alla legge di stabilità che permetterebbe di pagare con Bancomat e carte di credito per spese sotto i 5 euro. La proposta prevede infatti di abolire la soglia di 30 euro al di sotto della quale i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici, taglia le commissioni per gli acquisti al di sotto dei 5 euro e prevede multe per gli esercenti che non si dotano di POS. La stessa proposta attribuisce alla Banca d'Italia poteri di indagine, controllo ed intervento anche sanzionatorio per garantire il rispetto delle commissioni. Ma tutto questo sta già generando malumori tra i commercianti. Malumori e polemiche che in realtà si trascinano dallo scorso 30 giugno, quando appunto per professionisti ed imprese scattò l'obbligo di accettare i pagamenti superiori ai 30 euro anche attraverso le varie forme di pagamento elettronico. La Confesercenti aveva denunciato le difficoltà di benzinai, edicolanti, tabaccai e ambulanti ad applicare la norma.